Ciao a tutti, oggi prepareremo l'insalata di orzo a Varoma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono orzo sciacquato in acqua fredda, zucchine tagliata tocchetti, melanzane tagliata tocchetti, peperoni tagliata tocchetti, pomodorini in quarti, acqua, sale, olio, pepe, prezzemolo e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizioniamo il cestello con l'orzo, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il varoma con le verdure. Mettiamo un po' di sale, il pepe, irroriamo con un filo d'olio, chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere per 25 minuti. Temperatura Varoma, velocità 3. le verdure sono cotte, trasferiamole in una ciotola capiente. Mettiamo anche i pomodorini e il basilico e il prezzemolo. Anche l'orzo è cotto, trasferiamole nella ciotola con le verdure e lasciamo intiepidire. Insalata di orzo a Varoma. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!